C'è una sconfitta che comunque fa male per perdere i calci di rigore, anche se è stata una brutta per le tre squadre che comunque non hanno mai capito. Sì, diciamo che è brutto perdere e è brutto perdere così soprattutto quando non fanno e poi un rigore così insomma abbiamo perso male, ci dispiace tanto, siamo molto amareggiati e molto brutto. Che è successo con Scalpa nel episodio del Limpone? No, niente, ho cercato un po' di tagli un po' fastidio diciamo e poi niente di cose che succedono al campo, niente di più. Abbiamo interesse e pensi adesso cambierà, immagino che sta bene, può recuperare posizioni perché è una squadra che potrebbe entrare tranquillamente nel play-off vista anche la... Certo, adesso ora da domani ci metteremo sotto sicuramente a lavorare al massimo, che già lo stiamo facendo però da domani ancora di più perché stiamo rispetto a una partita importantissima dove non dobbiamo sbagliare niente, dobbiamo cercare di vincere a tutti i posti. Grazie. Grazie. Grazie.